Le nuove normative per l'assistenza agli sfollati del centro Italia subiranno delle modifiche significative. A partire dal 1 settembre, la responsabilità per la gestione del contributo di autonoma sistemazione CAS sarà trasferita dalla protezione civile alla struttura commissariale per la ricostruzione. E dalla stessa data cambierà anche il nome e si chiamerà Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione e sebbene sarà in gestione alla struttura commissariale, continuerà ad essere erogato dai comuni. Insomma è una fase di passaggio dallo stato di emergenza che comunque va a chiudersi, se non ci saranno ulteriori proroghe, ma questo penso che sia l'indirizzo che ormai si è dato, allo stato di ricostruzione, nel senso che si passa ad una fase in cui si accelera il percorso strutturato di ricostruzione e resta comunque un sostegno per le famiglie che ancora non sono rientrate nelle loro abitazioni e che hanno rispettato tutte le tempistiche per quanto riguarda la presentazione dei progetti. Quindi è una fase di transizione che ci vedrà collaborare, dialogare direttamente come comuni con la struttura commissariale come abbiamo sempre fatto. Quindi è un passaggio che dopo questi anni è definito insomma dalle norme. Il sindaco Gian Guido Alberto ha inoltre sottolineato l'importanza di un passaggio graduale dall'emergenza alla ricostruzione, mantenendo un occhio di riguardo per le difficoltà abitative persistenti. Sì, l'altra misura prevista, cioè quella relativa alla sospensione del CAS per gli affittuari, è una misura anche quella che era un po' nell'aria e che è stata più volte rinviata nel corso del tempo e che a me lascia un po' di preoccupazione con riferimento agli affittuari delle case popolari, in particolare qui da noi delle case Ater che hanno una ricostruzione che di fatto è bloccata, è ferma rispetto all'altra edilizia residenziale. Quindi dobbiamo avere garanzie da parte del governo che siano tutelate queste famiglie che ovviamente loro malgrado si trovano in una condizione ancora lontana da rientro nelle loro abitazioni perché non dipende ovviamente da scelte loro ma da scelte dell'ente proprietario pubblico e che oggi si trova in grande ritardo.